le testimonianze più belle degli anni 50 e 60. In Italia ci sono due registi per me, uno è Fredini e l'altro Antonioni. Ma il guaio comincia qui, che Antonioni va verso la fotografia e Fredini verso l'abbigliamento. Da un punto di vista realizzativo, La Notte è stato un film molto difficile. Credo che Antonioni vive soltanto nelle difficoltà. Lui è come certi pesci che vivono in soltanto a profondità, a Bissali. Lui, anzi, se non ci sono le crea, perché credo che sia un incentivo alla sua immaginazione.